Salve a tutti, sono il geometra Mattia Sirelli e lavoro presso livello 2, uno studio di Faenza. Mi occupo principalmente di modellazione 3D, di rendering e di realtà aumentata. I ragionamenti che faccio prima di ogni progetto sono quelli di confrontarmi con i progettisti all'interno di livello 2. Successivamente facciamo una bozza prima a mano per vedere appunto gli spazi all'interno dell'ambiente che vogliamo ricreare. Successivamente lo importiamo su AutoCAD e lo modelliamo tridimensionalmente su Edificius. Un software BIM agevola molto il mio lavoro perché grazie a questo software riusciamo in tempo reale a modificare piante, sezioni e prospetti. Inoltre ci permette anche con la realtà virtuale di vedere in anteprima l'evoluzione di quello che stiamo facendo. Mi sono approcciato a questo software BIM grazie ad un mio collega che lo aveva in studio e grazie a lui appunto ho iniziato a studiarmi questo software. Lo ammetto, inizialmente è stato un po' difficile ma grazie ai video tutorial che proponeva sono riuscito appunto a comprendere ogni comando che aveva e esercitarmi su questo. Ho scelto un software H perché inizialmente è un software italiano ed è un software molto facile da utilizzare rispetto ad altri. Ho provato a utilizzare anche altri software come Revit, come 3D Studio Max ma mi sono sempre trovato male perché erano molto complicati ed è molto lenti da utilizzare. Mentre software H riesce in tempi ridottissimi a darti un'ottima qualità dell'immagine e anche del lavoro che sto producendo. La parte più difficile per me è sicuramente quella della luce perché non tutti gli edifici hanno delle ampie vetrate dove arriva una luce naturale all'interno degli oggetti. Quindi avere una buona anteprima prima di lanciare un render è fondamentale. Io personalmente do una buona esposizione, sempre molto alta, e una luce diretta non troppo eccessiva perché se no rischio poi di bruciare l'immagine. Un trucco che utilizzo è quello di inserire oggetti all'interno della scena di modo da inghiannare l'occhio e avere una visione più realistica dell'ambiente. Quindi il mio consiglio che do è quello di inserire più oggetti possibili all'interno della scena combinati fra di loro. A volte mi è capitato di avere dei problemi all'interno del programma ma grazie all'assistenza di H riesco sempre a risolverli. Infatti l'assistenza di H dispone anche di una linea telefonica dove è sempre reperibile a qualsiasi momento del giorno. Terminato il progetto la soddisfazione più grande è vedere il cliente soddisfatto. Avere la sua approvazione che il rendering iniziale è molto simile al progetto finito per me è molto soddisfacente. Il real-time rendering è molto importante a fase progettuale perché permette il cliente di vedere in tempo reale cosa succede all'interno della sua futura casa. Grazie al real-time rendering si può spostare oggetti, si può modificare i colori delle pareti e si possono applicare le texture ai vari oggetti all'interno della scena. Pensare che il cliente possa utilizzare il caschetto è molto entusiasmante. Sia dal lato nostro per la progettazione sia dal lato del cliente che si medesima nella sua casa ancora prima di ristrutturarla o di costruirla. Consiglierei Dificius a tutti i professionisti del settore. Da una parte è molto veloce ed intuitivo e dall'altra parte offre grande soddisfazioni lato cliente. Sia dal lato nostro per la progettazione sia dal lato del cliente.